Grazie a tutti. Buongiorno Assessore. Buongiorno. Che cosa avete presentato? Come si svolgerà questa iniziativa tra le scuole? Intanto è stata organizzata una bellissima manifestazione questa mattina di sensibilizzazione circa il problema legato alle donazioni, perché non bisogna mai dimenticare che migliaia di persone in Italia e nel mondo colpite da grevi patologie e carico di organi vitali, ritornano ad una vita normale, proprio il caso di dire ritornano ad una vita normale grazie ad un intervento importante che si chiama trapianto di organi. Certo, ancora bisogna camminare soprattutto nel sud e non dimenticando che sono ancora 9 mila le persone gravemente malate in attesa di un donatore. E purtroppo bisogna anche dire che dal punto di vista proprio informativo circa le donazioni sussistono ancora molti dubbi, pregiudizi e alle volte le stesse informazioni sono erdate o scorrette. Grazie a tutti.